Era conservato all'interno dell'archivio storico di Firenze ed adesso per la prima volta arriva in città, esposto all'interno delle sale del Museo di Palazzo di Fraternita in Piazza Grande. Si tratta del testamento di Giorgio Vasari. Fu scritto il 25 maggio del 1568. In questo documento scrive Vasari che qualora la sua linea maschile della calzata Vasari si estinguesse, tutto il patrimonio della calzata Vasari passava in eredità universale alla Fraternita dei Laici. Ciò avvenne alla fine del Seicento quando si estinse la linea maschile del fratello di Giorgio Vasari con Francesco Maria Vasari e questo fece un nuovo testamento e lasciò tutto a Fraternita dei Laici. In questi mesi in cui sarà presente ad Arezzo il testamento di Vasari, cioè dal 25 di aprile fino al 30 di settembre, noi intendiamo sviluppare ricerche storiche, ricerche d'archivio, di documentazione, rivisitare tutte le disposizioni dello stesso Giorgio Vasari, per riconoscenza al suo testamento, e al tempo stesso sviluppare ricerche che possano consentire di individuare la sepoltura di Giorgio Vasari in Pieve, perché è certo che Giorgio Vasari è stato sepolto in Pieve. Non abbiamo ancora individuato la sede in maniera definitiva, perché il pavimento della Pieve è stato modificato negli anni, alcune volte è alzato e altre volte è abbassato. Quindi abbiamo fatto delle indagini geodiagnostiche per individuare la tomba. E infine in programma per giovedì 25 aprile la festa di San Giorgio. Faremo una messa in Pieve, celebrata dal priore della Fraternita, che è Monsignor Don Alvaro Bardelli, arciprete anche della Pieve stessa, e faremo questa messa in soffragio di Giorgio Vasari, ma anche dei benefattori di Giorgio Vasari. E poi nel pomeriggio faremo la distribuzione dei pinocchietti, del vino, vinsanto, vino trebbiano, come voleva il documento di Vasari stesso. E poi faremo anche una conferenza storica per fare un po' il punto storico, culturale, su tutta questa vicenda.